short facciamo dei carciofi in tegamino quindi servirà un trito di prezzemolo aglio e cipolla bello abbondante prepariamo i carciofi in questo modo un filo d'olio sul fondo e andiamo a farcire la cipolla così e in mezzo invece il prezzemolo e l'aglio l'uovo sbattuto in ogni uovo in ogni carciofo ed eccoli pronti un po di vapore buon appetito